eccoci pronti a seguire insieme i 12 segni di oggi 27 aprile con l'almanacco con l'oroscopo compleanni prima c'è sanzita quindi auguri a tutte coloro che si chiamano così compleanni è nato vittorio cecchigori oggi 27 aprile nel 1942 poi c'è un giornalista su rai 3 conduttore 27 aprile 1957 lui è riccardo iacona frase di oggi un sorriso ti fa guadagnare più di 10 anni della tua vita andiamo incontro quindi con un sorriso ai 12 segni l'oroscopo di oggi 27 aprile ariete fertilità di idee e grossa spinta alla realizzazione aumentano le vostre chance di successo già propiziate dal sole periodo straordinario approfittatene per poter effettuare buone scelte dare una svolta decisiva alle vostre iniziative in amore stasera sarete voi a condurre toro giornata propizia purché sappiate distribuire le forze e concedervi pause riequilibranti non precipitate le cose se volete davvero che una trattativa importante giunga a buon fine molta intensità nei rapporti umani gemelli molti cambiamenti di scena prospettive di affermazione personale un po in tutti i campi molti anche i progetti che comincerete a vagliare per il futuro nel lavoro non adagiatevi sulle sicurezze il rinnovamento che cercate comporta dei rischi stasera scintille per il cuore cancro decisioni importanti nel lavoro prendetevi tutto il tempo che vi serve e fate le vostre scelte dopo aver calcolato bene qualche sintomo di fragilità nervosa riequilibratevi stando all'aria aperta l'intuizione vi aiuta a salvare l'armonia nei rapporti sentimentali leone molto entusiasmo per situazioni nuove e stimolanti che favoriscono i contatti sociali vi sentirete alleggeriti e scintillanti ottime quindi le possibilità di successo soprattutto se saprete rinunciare alle abitudini e allargare i vostri orizzonti belle sorprese attendono gli innamorati vergine il senso critico e il tempismo vi permettono di fare le scelte giuste nel lavoro non delegate agli altri di intervenire per spianare un contrasto fatelo di persona e subito affermazione personale durante una riunione approfittate di un'occasione per rianodare un'amicizia bilancia svolta importante per valorizzare le vostre capacità comunicative e il vostro bisogno di muovervi in spazi più ampi gli stimoli intellettuali vanno assecondati successo per chi studia in famiglia il vostro senso di giustizia vi impedisce opportunismi gioie per il cuore scorpione qualche rischio da correre in campo professionale non andate però oltre il limite di ciò che considerate lecito sforzi compensati da successi gratificanti in famiglia non date troppo peso al vostro senso del dovere affrontate i vari problemi sdrammatizzando sagittario rapporti amorosi e comunicativi all'insegna della disponibilità e dell'apertura bisogno di confrontarvi con le idee di chi vi circonda attenti a non confondere amore e amicizia curate bene l'alimentazione iniziando una dieta capricorno giornata di grandi attività cercate le strategie giuste per evitare un eccessivo dispendio di energie fisiche ed intellettuali non traite giudizi affrettati sull'operato altrui le apparenze ingannano gli interessi comuni favoriscono l'intesa con il vostro partner acquario intensità e spontaneità nei rapporti affettivi giornata decisiva perché protetta dagli astri nel lavoro qualche ripensamento vi spinge a modificare i vostri piani buoni risultati a breve scadenza distensione tra le pareti domestiche pesci carica vitale da alimentare attraverso l'azione non lasciatevi frenare dall'autocritica apprezzate ciò che il quotidiano vi offre ma non scegliete la via più facile vi lascerebbe insoddisfatti confidatevi con chi amate la sincerità vi premierà certamente